Bella a tutti Fortniteers, bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a fare l'incarico infliggi danni agli avversari entro 15 secondi dall'uso di bagliore viola o tecnica dello spirito del fieno allora queste due armi diciamo maledette le troviamo in giro per la mappa ecco qua ho trovato il bagliore viola, l'ho trovato anche prima facendo un'altra partita oppure come ormai sappiamo quando troviamo i lama maledetti e riusciamo ad ucciderli ci rilasciano entrambe le tecniche diciamo ora che cosa dobbiamo fare stranamente rispetto a quello che si potrebbe intuire ecco qua ora ve lo faccio vedere rispetto a quello che si potrebbe intuire ora ok non sono riuscito perfetto ma basta colpirli con il bagliore viola perlomeno con il bagliore viola è sufficiente colpire gli avversari con l'arma anche l'ho preso avete visto infatti 300 in più ora ovviamente se lo andiamo a colpire vediamo se ci segna i punti se non mi ammazzo prima lui perché è molto probabile preso e ce l'ha contati quindi conta sia la sia l'arma sia quelli che riusciamo a fare dopo nei 15 secondi ok vediamo no ok questa volta si l'ho preso l'ho anche eliminato perfetto e mi ha dato 100 punti ogni volta più adesso se dovessi colpire qualche avversario giocatore o avversario quindi va bene anche i boss mi vengono contati i punti quindi qual è la cosa più facile la tecnica più facile diciamo è quella di andare eccolo qua il lama andiamo a bastonare il lama subito ho un'arma si non so se basta fammene prendere devo prendere qualcos'altro assolutamente perché con quelle poche munizioni non credo di farcela avrei fatto prima si avrei fatto prima prendere ormai a conquistare il punto di cattura perché lui lo sentiamo già il lama e li corro dietro a meno che non mi lascia qualche munizione lui ok quindi vi faccio proprio vedere tutto il gameplay ovviamente mandato avanti se eccolo la devo stordirlo eccolo che inizia eccolo stordito io ho finito le munizioni quindi lo picchio in questo modo non mi rimane altra scelta tanto ho preso delle altre munizioni per fortuna lui le lancia eccolo qua no no non sparire non ci credo ho finito i colpi di qua di qua dove sei ok non ce l'ho fatta vediamo un po' se sono qui sotto si l'ho ucciso in estremis perfetto no 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 non voglio respawn ok presi tutte e due perfetto e adesso andiamo a cercare i boss sperando che siano spawnati qui vicino ormai finisco di farmi lo scudo ecco come non detto comunque avversario quindi va benissimo da dove ci sta sparando da quella parte la perfetto vediamo se lo becco preso e vedete che i punti ci conta anche quelli che prendiamo con l'arma quindi non per forza non per forza bisogna colpirli e poi prima colpirli con la tecnica eccoli ecco il boss è vicino dicevo quindi non per forza bisogna colpirli prima con la tecnica e poi con qualsiasi altra arma ma possiamo tranquillamente colpirli con queste nuove armi maledette adesso taglio un attimo questo pezzo eccoci qua tra l'altro in questo modo andiamo a fare anche questa qui aiuta a infliggere danni ad avversari a più di 30 metri di distanza soprattutto con quest'arma qua questa del fien ma anche l'altra si però questa del fien ho notato che contro i boss leva molto fa molti punti di danno vediamo un po' se riesco a trovarli eh vediamo se ce la facciamo pensavo di essere vicino anche loro si stanno spostando dove sono eccoli qua qui ne toglie un casino perché ok gli faccio anche il bagliore ho preso qualcosa perfetto e poi adesso io posso ovviamente colpirli anche con un'altra arma perché mi conta comunque mi conta i punti ok avete visto infatti l'ho completata ok perfetto andiamo a rifarci un po' di oro quella l'abbiamo fatta e ora continuiamo con quella dei 30 metri di distanza se il video vi è piaciuto ragazzi un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti